bentornati ragazzi da oggi finalmente finendo la sua ultima sfida sarà possibile finire la personalizzazione di maia con appunto il suo ultimo potenziamento ma prima di andargli a vedere insieme vi chiedo un mi piace al video e se vi fa piacere anche un iscrizione al canale ma ora andiamo subito nel magazzino potenziamento questa è la nostra maia vedete a noi mancava colore pantaloni e la sciarpa andiamo prima sui pantaloni così la finiamo i colori tanto ce li avrete uguali anche voi li vediamo velocemente assieme questa è l'artica la giunga urbana il grigio e il verde e infine lo scuro noi abbiamo optato scusate per la mimetica artica bene e confermiamo mai a potenziale adesso andiamo indietro e andiamo con l'ultima la sciarpa scegliamo colore vedete si può anche personalizzare ma noi andremo su un classico tanti colori sono quelli e noi abbiamo scelto appunto l'arancione diamo conferma maia potenziata torniamo indietro come vedete stato di maia era al cento per cento quindi ad oggi non c'è più niente per maia e la skin è finita così almeno la nostra fateci sapere voi come avete fatto la vostra di maia grazie e alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti